Quest'anno la scelta del capitolo è stata per Don Giorgio Bosini, un sacerdote molto conosciuto qui a Piacenza, soprattutto per il suo impegno all'interno dell'Associazione La Ricerca. Quest'anno ricorre il trentesimo anniversario della Fondazione. A noi è piaciuto sottolineare questo fatto perché Don Giorgio si è impegnato in tutti questi anni a favore dei giovani, in modo particolare che hanno vissuto esperienze di disagio, di difficoltà, ha raccolto la sfida educativa, ne ha fatto una sorta di impegno di vita all'interno del suo ministero e sicuramente rappresenta una figura molto bella di sacerdote. In un tempo in cui anche la figura del sacerdote, sotto tanti punti di vista, vive un momento di fatica, ci sembrava opportuno mettere in rilievo un uomo che da 46 anni vive il ministero sacerdotale in un modo fedele, umile, intelligente, anche con un carattere un po' schivo, riservato, ma sicuramente molto fecondo, molto bello a nostro parere.